La legge della sanità lombarda è scaduta ormai da qualche mese, ad agosto 2020 e il Ministero della Salute ha sollecitato Regione Lombardia per rivedere la legge sperimentale lombarda con una lettera del 12 dicembre 2020, chiedendo a Regione Lombardia di completare la revisione di questa legge in 120 giorni e fissando in 30 giorni l'impegno di iniziare un percorso di revisione. Purtroppo Regione Lombardia è ancora in box, non abbiamo evidenza di nessuna azione fatta dalla giunta regionale, nessuna iniziativa è stata calendarizzata in Commissione Terza, in Commissione Sanità e siamo veramente preoccupati. Noi abbiamo delle proposte chiare, le abbiamo depositate con tre proposte di legge importanti. Il Movimento 5 Stelle è l'unico gruppo politico che ha depositato delle leggi chiare per ridurre la burocrazia, per inserire il merito, per puntare su una sanità veramente pubblica, forte e diffusa sul territorio con le case della comunità e inoltre chiedendo che finalmente la sanità non sia un affare di business ma riguardi veramente i bisogni dei cittadini. Riteniamo grave, riteniamo grave che ancora ad oggi non ci sia un processo condiviso che sia iniziato in tutte le sedi istituzionali e soprattutto è grave che Regione Lombardia, che il nuovo Assessore Moratti, che la giunta Fontana non ascoltino tutti quei messaggi forti che arrivano dai territori. Lo chiediamo noi, lo chiedono i nostri sindaci, lo chiedono i nostri cittadini. Giunta Fontana, Assessore Moratti, dobbiamo iniziare subito a lavorare. Calendarizziamo la revisione di questa legge 23 che purtroppo si è manifestata e dimostrata fallimentare perché ha dimenticato completamente i nostri territori. La legge 23 ha fallito principalmente nella costruzione della rete di presidio medico territoriale. Da una parte i nostri medici di base sono stati lasciati da soli e trasformati in impiegati che dovevano smaltire tutta la burocrazia che ricreava Regione Lombardia. E dall'altra parte tutti i presidi che dovevano essere inglobati nei famosi presidi sociosanitari non sono stati implementati in un continuo indebolimento di quelle che erano invece le esigenze che dovevano rispondere i bisogni dei cittadini. Quindi mi viene da dire che le intenzioni veramente della legge 23 siano fallite completamente sotto gli occhi di tutti e credo che questa lettera arrivata dal Ministero della Salute e implementata da Agenas che è l'ente di controllo esterno tecnico sia la prova provata che in Regione Lombardia qualcosa non funziona. E il termine che è stato dato di 120 giorni è un termine che va rispettato perché non possiamo veramente più aspettare. E poi arriviamo alla questione vera e propria della pianificazione. Una Regione che vuole fare una pianificazione dal punto di vista sanitario o ambientale o anche dal punto di vista economica deve partire da dei dati chiari. È evidente che Regione Lombardia sta guidando senza avere la patente. Non ce l'ha perché non sono chiari gli studi epidemiologici sui nostri territori, sulle nostre province, in particolare per esempio la provincia di Cremona che risulta essere una delle province peggiori dal punto di vista ambientale a livello di impatti e presenze di polveri sottili. Ad oggi Regione Lombardia naviga senza avere consapevolezza quindi su quali dati fa una pianificazione sanitaria. Gli stessi sindaci come possono implementare delle politiche territoriali senza avere questi dati. E in questo sta proprio il fallimento della nostra legge regionale che ha staccato completamente tutti quelli che sono gli aspetti di pianificazione, di studio, di rete territoriale, di medicina del territorio e di prevenzione da quello che è invece l'azienda ospedale. In qua c'è tutto il fallimento.